Questo oggi giochiamo a Minecraft, ma è un mondo completamente tondo dove dovrebbero esistere tutti i biomi di Minecraft Esatto, Stef Almeno Minecraft è tipo 1.8, 1.9, secondo me dell'1.14, tutti i biomi non ci possono essere Però guardate quanto è gigantesco questo pianeta, è una roba incredibile C'è pure un villaggio Wow Davvero? Ah, lo vedo! Diciamo la dimostrazione, sto mostrando tutto il mondo, ok, dall'alto e da lontano E quindi sto vedendo anche tutto quello che c'è E c'è un villaggettino fatto in discesa veramente interessante Lì vedo anche le mucche Mushrooms fantastiche Abbiamo ovviamente anche il deserto Dovresti vedere chi vede da qualche parte? No Sono al villaggio? No, non ti vedo È un maledetto Sai invece cosa vedo? Cosa vedi? Un fantastico libro che uscirà il 17 di ottobre Dai, Stef Meraviglioso che potete preordinare su Amazon Non vi appetirete, è super mega fantastico Link in descrizione, grazie a tutti Non era neanche iniziato il video però, eh E per fortuna non vediamo fare, ma vediamo un bel libro Pensate, al posto della webcam di fare, mettete questo libro No, non ci provare, al posto della tua Che fa le televendite scadenti, Stef Il libro al posto della faccia di fare Così abbiamo un bel video oggi Grazie Vieni qua e muoviti Allora, aspetta un attimo che sto finendo di fare il giro grandangolare Abbiamo la zona dei funghi, quindi il bioma dei funghi Il deserto Ok, abbiamo visto già il bioma della neve, il deserto Quello normale con il plane classico La zona di ghiaccio e di neve Wow, sembra molto interessante Sembra molto carino Non vedo l'ora di iniziare Direi tagliettino e si parte Ciao, Fede Si parte qua al centro, c'è una cesta che ci dona un pochino di cose Direi, tutti gli utensili Io le torce le prenderei Possono essere utili Carne Opla, prendiamo Prendi anche la cesta, sinceramente Fede Prendi tutto Ti sei preso tutto tu? Va bene, dai, va bene, va bene Allora, Stef Da quale bioma vogliamo partire? No, Fede Come? Scusami Beh, prendiamo il villaggio proprio Facendo schifo Ma me lo stai anche chiedendo Ma dai Potevamo un attimo giocarcela bene Perché abbiamo questi blocchi qua che sono quelli dove metti tutti i semini Sì, è una nuova versione, quindi Ah, ok Ok, pensavo fosse molto meno nuova Allora, vediamo un pochino Infatti ci sono anche i barili Sì, 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 sì Guarda, ci sono anche le barbabietole Qua abbiamo una bella cestina Fammi vedere un po' Eh, sì, sì, sì Hai ragione Mi stai regalando tutto Sei molto generoso Guarda, non saprei proprio come ringraziarti Mi prendo anche questo Mi prendo anche questo Mi prendo anche questo Mi prendo questo Ma hai visto, Stef? Che carine le piantagioni in discesa Mi prendo questo Questa è faticosa La prende È un po' carina Mi sto rubando tutto Poi prendiamo questo Anche se non ci serve È proprio giusto per il gusto Di prenderlo, ragazzi Giusto per il gusto di rubare Ve lo dico io spesso Oggettivamente questo Poi abbiamo tutte le librerie Prendiamo anche le librerie Vabbè, abbiamo già ottenuto Tutto quello che ci serve Su Minecraft per vivere Assolutamente sì Allora Sono staggeggiando qua Io sto giusto Piantando un po' di grano Perché magari ci può servire Non si sa Ma guarda, in realtà Ho trovato i blocchi di pieno io Quindi Abbiamo pane per dieci vite Sono d'accordo Forse anche quindici Sono d'accordo Vabbè, per gentilezza Rimpianto Qualcosa Che c'è? Nient'anno notte Sì, di già Quindi ci arrivano i mob Penso di sì A punirci Sì, perché abbiamo rubato Come degli schifosi Quindi ce lo meritiamo Capisco Ma allora Tu hai visto il villaggio? È difficilissimo No, non ne ho visto Sembra abbandonato Questo villaggio Wow Così? A censo ereno Uh Bello Io allora non mi sono fatto Gli utensili base Perché non ho preso legna Ho solo rubato Però Adesso mi prendo un pochettino di legna E inizio subito Opla Normale Eh, faccio alvoro la crafting Sono un po' fregata Ma come ti permetti Stef, ti sta facendo male? L'ho steso L'ho steso Grande Figliacco Allora Facciamo subito la spada Che male Ecco qua E facciamo subito Anche gli utensili base Che sono Comunque Super Utili Allora, perfetto Legna, legna, legna Legna, legna Ma cosa facciamo? Proviamo a farci una casa qui? O torniamo su? Io direi di tornare su Più che fermarmi A fare una casa Vorrei esplorare tanto Stef Anche se ci sono i mob Scusate un attimo Cosa Non ci sono dei letti Scusami Nelle case dei villager Ah, no Vederla Secondo che questa qua L'ha depredata a fare Ah, no Quella che l'ho depredata io No, io non ho Non ho depredato case Stef Ho rubato solo dalle piantagioni Quindi non mi dare colpe Cosa mi stavi chiedendo? Se ci sono dei letti Sì, li ho già rubati Non si vede niente Ah, ma possiamo dormire Ragione Torniamo Vieni qua Vieni tu qua Eccomi qui È odioso Il mondo in salita è odioso È soprattutto tondo Se è piatto c'è un motivo Il letto è troppo distante Ma se ero attaccato Ma cos'è troppo distante? Svegliati di giorno Fatto Opla Tutto a posto Opla Perfetto Andiamo Allora, torniamo nella miniera? No C'erano un sacco di cose belle Sì, ho capito Ma andiamo a esplorare i piumi Ma io volevo il ferro Eh, ne ho un po', eh Allora, guarda Guarda, andiamo da quella miniera Perché possiamo far così Entri in miniera Che eri in mezzo alla pianura Ed esci dalla miniera Che sei qui dall'altra parte Esatto È cambiata la stagione, capito? Allora, prendilo tu il ferro Perfetto Sì, ma qui non è molto C'è più redstone Ok, piuma della neve Ma non... Ciao Ciao Un sacco di bacche Prendi le bacche Mmm, belle Aia Occhio che fanno male Se ci spugli sono maledetti Io li odio, eh Anche io non li sopporto Cioè, una cosa così buona Come le bacche Perché deve essere messa In un posto così brutto Come le spine Basta, li distruggo E le sta soffrendo tantissimo Li sto distruggendo Basta, mi sono stancata Allora, in realtà Non ho tanto bisogno di bacche Sono davvero piena Piena, piena di cibo Sì, ma anche Ma bacche schifose Ti dicevo Quanto sarebbe comodo Vivere in un mondo Dove hai appunto Tutti i biomi così Dove hai tutto portato di mano Sì, sembra comodo Non mi piace il fatto Che sia tutto in salita Cioè, davvero snervante Però è molto comodo Avere tutto vicino Quello l'ammetto Perché comunque Cioè, davvero A distanza di un niente Di dieci passi Hai tutto Hai tutto quello Che ti può servire È incredibile Cioè, guarda qui Fai altri dieci passi E sei totalmente In un altro bioma È incredibile Sto controllando qua in mezzo al ghiaccio Se c'è qualcosa Non mi sembra Ok, risaliamo Il bioma dei funghi Non dovrebbe essere Niente di troppo importante Per noi in questo momento Non credo A meno che tu Se vuoi puoi prendere La canna da zucchero Io non ho molto spazio Bah, ne prendo un po' Ma non Fai un bel piccone in ferro, Steph Eh, sì Aspetta perché qua Io non ce l'ho E questi sono i mostri brutti Che avevi visto Facciamo È perso lo squid Ma quindi è uno spawn di squid Quello è uno spawn di squid Ah, sì? Sì Ma se c'era uno Sembrava un mostro brutto Guarda la faccia che c'è Nello spawner Lo so Vabbè, dai Uno squid va bene Aspetta però che Continua a prendere il ferro Mentre che cuoce il nuovo Assolutamente sì Cioè ma è un mondo super easy Questo, Steph Comunque Ma davvero? I diamanti ho portato a dimora Abbiamo trovato subito ferro Subito la miniera C'era anche la redstone Quindi volendo ti puoi fare Anche dei percorsi in redstone Ma perché c'è uno spawn di squid? Scusate Non l'ho capito Penso che siano gli unici squid Che possono nascere in questo mondo Quindi i poverini Non Eh, non Esatto Possono essere utili Allora E ti dicevo, Steph Per quello davo per scontato Che fossero mostri Che ci fa quello spawn di squid? Però sono carini Fa ridere Allora Sono una pozzanghera però non ci stanno Poi, oh mio Dio È tutto Ho troppa roba Dobbiamo farci una casa Te lo dico Perché io ho troppe cose nell'alimentario Poi io ho Ho tanto spazio ancora Quindi se vuoi Non ti lascio nulla Non posso tenere qualcosa No, no, no Allora non rompere Non ti lamentare Opla 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 Guarda che ti stanno diventando, Steph Diventa davvero piccola sta pozza, eh Opla Allora non ho più spazi Tieni Allora ti do le bacche La carne di zombie Non ce ne facciamo nulla ma va bene La campana non te la darò mai Allora Vediamo un pochino Un diamante qui Ottimo Perché devo cercare di prenderli Scusatemi Eh Eh Ok Sono due, giusto? Ma dai almeno un terzo Per farti un Non c'è Un utente Una spada Quindi ti esce Sì, ci esce la spada Non il piccone Ti esce la spada Raga ma perché siete così fastidiosi? Io non vi voglio picchiare Siete l'unice squid di questo mondo Secondo me Ah no, eccolo C'è uno spawner Quindi Fede li stai picchiando? Eh Ho troppi, Steph Dai Alla fine l'ho preso Il terzo diamante Ottimo Quindi erano tre Perfetto Numero perfetto Opla Andiamo via? Sì Continuiamo da questa parte No, io vorrei farmi una casa Ah, ok No, perché altrimenti urlo Eh, rubiamola, no? Nah Perché roviniamo il mondo? È così carino E poi come fai a costruirte una casa in pendenza, Steph? No, basta andare al centro Dici che la vuoi fare proprio al centro? Eh beh, siamo il re del mondo noi Qua, guarda Non sembra disegnato per Steph e Fere Vai, perfetto Qui è perfetto Allora E legna? Eh Nove Però ne posso prendere Dai, ne prendo Ok, però occhio Guarda il colore Credo sia occhio classico Occhio classico Sì, 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 sì Anch'io ho preso quello Quindi evito di prendere il berch Che comunque sta qui Pi, pi, pi Che a me piace di più, tra l'altro Anche a me Però dai, va bene Mi accontento anche dell'occhio classico Mi piace anche questo Cioè, è più bello il berch, no? È un colore più bello Bello, sì È una bella tonalità Sempre piaciuto Ok, allora Iniziamo a piacere un po' di cose dentro Così mi suoto un pochino Facciamo che mettiamo questa qui Poi mettiamo Ripianto anche un alberello Allora, poi mettiamo l'alto forno Che ovviamente sta in alto Poi mettiamo il tavolo da carpentiere Devi fare la porta però, eh A fianco, beh, ovvio A fianco mettiamo questo I letti ce li mettiamo colorati Perché ce li ho anche rossi Però mettiamo arancione e verde Che sono più carini Però sono belli i rossi Ma sono troppo classici La mucca vuole entrare in casa C'è la rubana del creeper La invitiamo? Sì, sì, certo Se vuole venire No, non vuole venire Ciao Poi, tavolo da Cos'è questo? Tavolo da arcaio Ma che è? Tavolo da? Arcaio Ok Che poi io vedo frecce Quindi è da arcere Invece da arcaio Vabbè Allora Pregatene Poi abbiamo questo fantastico robo qui Oh, abbiamo arredato tutta casa Ridendo e scherzando Sì, sì, sì Abbiamo finito tutto Quest'altro tavolo qua Poi mettiamo la campana Secondo me No, un blocco di sopra Ah, questo me lo riprendo Perché mi serviva solo per posizionare il blocco Quindi Raga, vivere in un mondo Dove tutti i biomi sono attaccati tra loro Perché vivono a palla È super easy È super easy Veramente super easy A questo punto facciamo Un po' di librerie Prendo un altro po' di legna Sai cos'è? Possiamo addirittura Visto che ce l'abbiamo vicino A cuocere della sabbia Farci i vetri, Steph Beh È molto faticoso trovare la sabbia, no? Cioè vado a farlo Ti giuro vado a farlo Ok Allora Piazziamo Una torcia qua Una torcia qua E una torcia qua E abbiamo la casa illuminata Poi Craftiamo Delle porte Vai Tutto perfetto Con la legna che io ho fatto Opla Opla Queste sono molto carine Secondo me Dopodiché Se io faccio così E faccio così E poi Faccio così Eh Però non ho molta legna Quindi me ne escono soltanto due Non è un gran che Stavo pensando a quello Perché i libri ne ho tanti Però poi in realtà Ho poca legna Quindi Dove voglio delle finestre? Stefo Stefo Sto bene No? Non stai bene? Sto bene Allora facciamo così Guarda che bella casa Ti vado a fare Facciamo così No Questo non mi piace Però poi facciamo Stefo Ah Sei troppo zitto Cosa stai combinando? Niente Niente Quando è zitto Sta combinando qualche disastro No No Semplicemente avevo ragione Su una teoria Che teoria? La teoria dei pesci Se tu pensi ai pesci Tu troverai i pesci Hai trovato dei pesci Quindi sei felice Di aver trovato dei pesci Esatto Ci servivano i pesci Perché? Perché? A cosa ci servono? I pesci? Eh Ponte di cibo infinita Ma stiamo pieni di cibo Che male! Li ripianti Steph Perché ti sei sfracellato? Eh Può capitare Cose che capitano Allora Cose che capitano Solo perché avevo voglia Di piazzare i blocchi Tra l'altro Sono proprio scemo Però Teoricamente È un mondo talmente piccolo Che io non ho problemi Giusto? Potrebbe essere tutto qua Certo Opla Ok Allora facciamo così Qualcosa è cauto di sotto raga Devo riscendere Ma c'ho il dubbio Vediamo Allora Dai le cose importanti ce li ho Allora A questo punto Nel deserto era solo questo Quindi Sembra di sì Vabbè solo Ci siamo vatti un bel bottino Adesso faccio vedere A fare Pere Cosa ti sei preso? Ho visto pochi animali Ho visto una mucca normale Le mucche fungo Però non ho visto pecorelle Esatto Esatto Anch'io ho visto pochi animali Pochi animali Che bellina la casa Dai per essere piccola e carina Almeno guarda Adesso devo finire un attimino Come finisce di cuocere la sabbia E finiamo anche il tetto Che c'è? Dove li hai trovati? Nel tempio Pere Ma questa è la roba più bella del mondo Steph Siamo ricchi Oltre che essere pieni di cibo Pieni di cose Con una casa fatta in modo Vabbè Steph Non finisci più Allora aspetta Questo è un bottino bellissimo O altro O altro Allora vediamo Mi finire di chiudere anche il tetto Che non vorrei che ci arrivi qualcosa in testa Ok Ok Io più che altro Speravo davvero ci fossero un po' di animali in più Perché ne volevo approfittare Allora a questo punto Devo Capire una cosa Questo è un esperimento Di quelli stupidi Ho notato Allora Ok tetto finito Ci possiamo guardare anche le stelle Che è ottimo E poi secondo me Io farei anche una finestra Qui Tipo nella zona Del letto Che figo E facciamo in questo modo Dato che vetro Ne abbiamo in abbondanza Posso fare tutto quello che mi pare Ho trovato un cane Ma cosa ci fai qui cane No ho sbagliato Ma hai sbagliato zona cane Ho rotto un vetro Ciao bellissimo Mi serve un altro di sabbie Sono orribile Che brutto posto cane Ma cosa ci fai qua Non è una buona Hai trovato un cane Portalo a casa Steph No non è impossibile Perché? Perché siamo in un posto terribile Sì io che lui Un maialino Steph Vedi allora ci sono È comparso fuori di casa Io stavo mettendo le finestre Un villager Questo è il proprietario Allora esistono anche i villager Ottimo dai Piene di roba Alla fine Oltre che non ci sono le cose Aspetta Non ti chiedo dove vive Guarda il mio schermo Dove vive? In un postato? No e questa è la fine del mondo Ah Perché volevo andare a vederla Forse è caduto Io ho trovato un villager E un cane Vabbè Non siete normalissimi dai Diciamo così Comunque consolini Io direi che ci possiamo Fermare così Questo mondo è fantastico Cioè è facilissimo È tutto a portata di mano Ti giri due secondi È tutto quello che vuoi Quindi è una figata pazzesca Qui sotto con voi altri video Iscrivetevi al canale Cappellino E ci vediamo al prossimo video Ciao ciao